Sale il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato, 117 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, con il totale che raggiunge quota 9.419. I decessi sono stati 4 e il bilancio sale a 191. Le vittime, tutte morti all'ospedale Santo Stefano, sono due uomini di 88 e 73 anni e una donna di 78 anni di Prato e un uomo di 86 di Montemurlo. Sono questi i dati comunicati dalla regione che ha anche oggi diffuso il bollettino per descrivere l'andamento dell'epidemia in Toscana. Su scala regionale si registrano 1.071 nuove positività che fanno salire il numero complessivo dei contagi a quasi 107.042 decessi che portano il totale delle vittime a 2.798. Le ultime morti sono quelle di 23 uomini e di 19 donne con un'età media di 80 anni. Dei 14.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il 7,6% ha dato esito positivo. Continua il calo dei ricoveri. 1.418 i pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani, 58 in meno di ieri, mentre sono 263, 9 in meno, i pazienti nelle terapie intensive. Un calo che si riscontra anche a Prato. All'ospedale Santo Stefano sono 104 i letti occupati nell'area Covid su una disponibilità di 126. In terapia intensiva, 19 posti occupati su 32. Per quanto riguarda la palazzina ovest del vecchio ospedale, il centro La Melagrana sono occupati 72 posti su 78. Il numero delle guarigioni triplica quello delle nuove positività. 3.180 le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite o perché il tampone a cui sono state sottoposte al risultato negativo o perché non manifestano più i sintomi della malattia.